Vetrocar si sceglie perché è il numero uno e il leader nella sostituzione dei cristalli. Perché da anni che conosco questa realtà ed ha sempre offerto servizio di qualità e continuo a farlo tuttora nonostante il mercato a volte preferisca il prezzo alla qualità. L'efficienza, hanno le vetture istitutive quindi il cliente può venire qua e lasciare qui le macchine e poi andare. Perché siamo i più bravi e i più veloci. Vetrocar, nata nel 1999, è specializzata nella riparazione e sostituzione cristalli auto. La sede direzionale è a Verona, in via del Perlar 35 e grazie alla nuova riorganizzazione societaria l'obiettivo è di diventare il primo player italiano nella sostituzione cristalli. Organizzare questo evento a Verona per noi significa ringraziare Verona e gli agenti di assicurazione di Verona che sono i nostri primi interlocutori che ci hanno consentito, partendo da qua, di poter portare a combimento questo progetto di sviluppo in Italia. Oggi ci presentiamo con più di 150 filiali in Italia, quindi una capillarità su tutto il territorio nazionale. Abbiamo accordi stipulato in brevissimo tempo, accordi con tutte le compagnie di assicurazione per le quali facciamo il servizio ai loro clienti di sostituzione e riparazione dei cristalli auto. L'innovazione più importante per quest'anno è l'accordo fatto con un'azienda specializzata nella riparazione dei cristalli e noi utilizziamo in questo momento una resina speciale che viene brandizzata con nome di ViziaQ e questa resina ha la particolarità che grazie alla sua tipologia di materiale, la sua viscosità, rende il parabrezza ancora omologato con tutte le certificazioni europee. Questo ci pone la possibilità di poter garantire ai nostri clienti un parabrezza ancora completamente omologato come in origine ed è un grande vantaggio soprattutto per chi ha le piccole scalfiture di avere un servizio che gli possa dare ancora tranquillità di avere un parabrezza completamente integro. Dai campi di calcio a Vetrocar? I campi di calcio ormai li abbiamo dimenticati da tanto tempo. Ormai Vetrocar fa parte della nostra vita, della mia vita, quindi siamo molto contenti di questa nuova avventura. Vetrocar e riparti con il sorriso.